Ciao! Mh 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 Ciao a tutti quanti! Allora oggi sono contentissima di girare questo video perché finalmente riesco a girare il video per il giveaway un pochettino in ritardo perché avrei voluto registrarlo in data 29 ottobre vale a dire il giorno esatto del terzo compleanno del mio canale qua su YouTube però per impegni vari e anche la malattia l'influenza che mi ha perseguitato veramente per due settimane non sono riuscita a girare questo video ma oggi finalmente ce l'ho fatta e quindi sono contentissima di aprire questo giveaway sul mio canale allora prima di tutto, prima di farvi vedere i premi prima di dirvi le regole un attimino vi voglio far soffrire prima di farvi vedere i premi che secondo me sono molto 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 carini che ho selezionato apposta per voi prima volevo ringraziare veramente tantissimo tutte le persone che sono iscritte al mio canale in particolar modo le persone che sono iscritte fin dall'inizio e che mi seguono fin dall'inizio e che fin dall'inizio scusatemi la ripetizione e guardano tutti i miei video lasciano dei commenti quindi sono followers attivi quindi grazie, grazie, grazie un bacione immenso a tutti voi ma ovviamente voglio ringraziare anche persone che si sono iscritte magari di recente o che comunque commentano lo stesso i miei video mettono un mi piace sappiate che veramente senza di voi senza il vostro contributo non potrei andare avanti penso che non vorrei andare avanti se non avessi un piccolo riscontro da parte vostra se nessuno commentasse mai un mio video se nessuno mettesse mai un mi piace penso che veramente potrebbe essere la motivazione che mi porterebbe ipoteticamente a chiudere il canale perché io ho bisogno assolutamente di voi ho bisogno di sapere quali sono le vostre impressioni sui video cosa ne pensate di quello che vi faccio vedere mi piace tantissimo quando ci scambiamo qualche consiglio su dei prodotti, su degli outfit, su tutto quanto quindi veramente sono contentissima di far parte di questo mondo un pochettino strano confusionario, molto popolato di Youtube e grazie, grazie, grazie per far sì che io possa continuare ovviamente a rimanere su Youtube perché è solo grazie a voi quindi, bene bando alle ciance dopo tutti questi complimenti e tutti questi giri di parole vi faccio vedere quali sono i premi perché ho scelto due premi da mettere in pallo quindi ci saranno due vincitori o due vincitrici si tratta di due set quindi non si tratta solo di un prodotto per vincitore o vincitrice e quindi vi faccio vedere subito quali sono i primi che ho preso per voi siete pronte? allora, il primo set è composto dai prodotti che vi faccio vedere adesso non potevo assolutamente non comprare anche per voi questa palettina della Mua la Dress Me Too che è considerata appunto il dupe della Naked 2 l'ho comprata per me e nel momento in cui l'ho comprata per me avevo già pensato di farvi un regalino e quindi ho deciso di aggiungerne due al mio carrello spesa sul sito della Mua e la Dress Me Too appunto è considerata il dupe della Naked 2 ha queste bellissime colorazioni molto naturali e molto portabili portabilissime mi piace tantissimo ci sono tantissime recensioni di questa palette su Youtube ma anche sui vari blog ormai la conosciamo tutte quante e visto che ha riscosso così tanto successo e piace veramente a così tante persone ho deciso di regalarvela secondo premio che fa parte appunto di questo kit chiamiamolo un pochettino il primo kit che vi metto a disposizione sono queste perle illuminanti per il viso della Kiko e sono veramente bellissime adesso vi faccio vedere la scatola aperta cerco di porruinarle di non farle cadere perché io sono un pochettino impedita su queste cose questa è la scatolina sopra c'è la loro spugnata protettiva e qui dentro ci sono queste bellissime perle su queste colorazioni rosa rosa confetto rosa antico e alcune più chiare illuminanti sono veramente bellissime regalano un effetto molto naturale al viso e soprattutto lo illuminano tantissimo e quindi mi piacciono veramente tantissimo ho deciso di metterle in palio per voi a fine video lascerò una foto con anzi più foto dove potrete vedere più da vicino le colorazioni di ogni prodotto che vi faccio vedere adesso così riuscirete a capire meglio e a vedere meglio che cosa vi sto regalando altri due prodotti che fanno parte appunto del primo kit che vi regalo sono altri due prodotti di Avon e questi qua sono degli sticker per le unghie sono più o meno come quelli di Kiko o come quelli di Sephora solo che questi scusate mi stavo affogando solo che questi sono un pochettino più resistenti non sono fatti proprio di smalto ma sono proprio quasi plastica e vanno limati con la lima questa è una stampa animalier che mi piace tantissimo e all'interno ci sono anche dei piccoli glitterini colorati come dei piccoli diamantini colorati che danno luce alle unghie e questa è la colorazione Inner Animal e insieme vi regalo appunto anche un rossetto che fa parte della linea Perfect Kiss che sono quelli con il packaging fatto così a specchio se qualcuno di voi conoscesse di già questa linea e la colorazione è questa bellissima colorazione Berry Smooth Ultimo prodotto che fa parte di questo primo kit che vi regalo sono questi glitter effetto 3D dell'Essence della nuova collezione che è uscita appunto di accessori per le unghie in questa colorazione blu sono stupendi e ho re-indecisa sinceramente se tenermeli io o regalarveli ma poi ho voluto fare questo atto di bontà privarmene io per regalarveli a voi Bene ora passiamo al secondo set che metto in palio sempre ovviamente per voi e anche in questo secondo set c'è una bellissima palettina a farla da padrona questa è la Electric Eye Palette e l'ho trovata da Douglas o Douglas scusatemi appena lo vista ho detto e questa cosa si fa qui? mi ha attirato subito l'attenzione anche perché richiama tantissimo visivamente le palette della Sleek Makeup perché in pratica all'interno è uguale anche il packaging la confezione se non fosse ovviamente per la stampa che c'è qua sopra richiama in tutto e per tutto le palettine della Sleek Makeup quindi ho deciso di prendere questa palettina in regalo per voi come vedete sotto c'è anche un ampio specchio e ci sono queste bellissime colorazioni al suo interno quindi questo è il primo prodotto che trovate all'interno del secondo kit altri due prodotti che trovate all'interno del secondo kit sono due prodotti dell'Essence e fanno parte dell'edizione limitata Beauty Beats che c'è in questo periodo negli stand Essence il primo è questa bellissima shimmer powder che all'interno ha anche dei pigmenti molto luccicosi molto luccicanti quindi secondo me fa un effetto molto shimmer sul viso molto illuminante e deve essere bellissimo e come secondo regalino ho deciso di prendere ovviamente il blush che non potevo non prendere perché ha attirato subito la mia attenzione con questa bellissima e stupenda colorazione non potevo assolutamente lasciarla lì nello stand e far sì che la prendessero altre persone quindi per voi ho deciso di prendere questo blush e ultimi due prodottini così ho fatto premi equi 5 prodotti nel primo set e 5 prodotti nel secondo set sono questo lip gloss che richiama tantissimo la colorazione del blush ed è la colorazione numero 1 groupie at the heart e questo bellissimo smalto che veramente ragazzi anche questo l'ho indecisa sinceramente se tenermelo è di questo viola cupo di questo viola intenso bellissimo ed è la colorazione numero 1 baby baby quindi il secondo set appunto è terminato io spero che questi regali che ho deciso di mettere in palio per voi vi piacciono che vi piacciono veramente ho deciso di prendere fondamentalmente anche diversi prodotti dell'essence perché mi capita tante volte di leggere commenti sia sotto i miei video ma anche commenti di tante altre ragazze che molti di voi non hanno essence e quindi non possono reperire i prodotti di essence oppure anche se hanno essence trovano gli stand sempre vuoti svaleggiati soprattutto per quanto riguarda le edizioni limitate quindi quando io riesco a trovare queste collezioni sono ben contenta di prendere qualche prodottino anche per voi e di metterlo in palio per regalarlo a voi specialmente a chi mi segue da tanto tempo sono veramente contentissima di poter regalare questi prodottini bene ora passiamo alle regole per poter partecipare al giveaway è semplicissimo ci sono solo due regole quella di essere iscritti al mio canale e quella di commentare sotto questo video lasciate un numero illimitato di commenti anche se adesso io sono passata al google plus non ho assolutamente problemi nel leggere tutti i vostri commenti perché per fortuna ho capito come si utilizza google plus e quindi state tranquille non mi perderò nemmeno uno dei vostri commenti ve lo assicuro ve lo garantisco e aggiungiamo anche una piccola terza regola quella di essere residenti in Italia ma penso che la gran parte di voi sono tutti residenti in Italia quando scadrà questo giveaway allora voglio darvi due settimane di tempo per poter partecipare in modo che ognuno di voi con impegni lavoro scuola università eccetera eccetera possa avere almeno 4-5 giorni in cui sicuramente può lasciare qualche commento sotto questo video per partecipare quindi come data di inizio teniamo valida quella di oggi che è la data di registrazione ed è venerdì 15 e quindi di conseguenza questo giveaway terminerà venerdì primo dicembre dato anche abbastanza facile da ricordare come inizia il mese e finisce il giveaway mi raccomando non lasciate commenti dalla mezzanotte del primo di dicembre perché questi non verranno considerati validi per poter partecipare al giveaway e il nome del vincitore o della vincitrice verrà appunto estratto tramite random.org e pubblicherò il nome in un video nuovo quindi non venitelo a cercare nel box info sotto questo video bene ragazzi questo video è durato tantissimo l'eternità io che cosa vi dico grazie 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 mando veramente tantissimi baci a tutti voi a tutti i miei iscritti e mi raccomando partecipate 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 al giveaway e buona fortuna a tutti ciao ciao